Quanto è importante per una squadra di Lega Pro avere la possibilità di allenarsi in un centro sportivo come questo? Sicuramente ti dà quel qualcosa in più che le altre squadre non hanno. Come abbiamo detto prima, questa è la differenza tra Catania e tutte le altre squadre di Lega Pro. Un centro sportivo così in Italia, tolte le big di serie A, non esiste. È difficile trovare una palestra a chilometri di distanza, figurati avercela fuori dagli spogliatoi. Sono stato a Varese, nulla a togliere agli anni passati lì, che sono stati sicuramente i più belli della mia vita, perché mi hanno portato in serie B, esordio, salvezze, play-out. Ho comunque provato grandissime emozioni, però non c'era l'organizzazione che c'è qua. Il mio desiderio è quello di portare il Catania dove merita. Io ce la metterò tutta a livello personale e spero di trasmettere questa cosa ai miei compagni, qualora ce ne fosse bisogno, anche se vedo che tutti quanti, bene o male, sono sulla stessa lunghezza d'onda. Non so se sarebbe possibile farlo quest'anno, nel senso che comunque non ci si può nascondere dal fatto che partiamo da meno nove. Siamo partiti da meno nove, o siamo a meno tre fortunatamente. Poi vediamo, il cammino è lungo. Io quello che mi sento di dire ai tifosi è di tornare allo stadio e di darci una mano, perché ne abbiamo bisogno. Non perché voglia arrogarmi le loro simpatie, semplicemente perché la squadra ha bisogno dell'apporto dei tifosi. La società è in difficoltà, perché comunque a partire dalla Lega Pro, dopo che comunque negli anni scorsi si è speso, c'è stato un dispendio economico in mane, ritrovarsi in Lega Pro col meno nove è dura, è una botte che non so quante realtà possano sostenere. Per cui in questo momento, per amore dei colori, devono darci una mano. Sicuramente due vittorie così già fanno capire che il gruppo c'è. Io ho arrivato da due giorni subito in campo, grazie ai miei compagni di squadra e allo staff. Questo è successo grazie a loro, perché non è facile arrivare dopo due giorni, viaggi, tutto, e scendere subito in campo. Se mi sono trovato bene in campo è anche grazie a loro, perché già erano un gruppo eccezionale. Queste due vittorie, venute così, secondo me sono due vittorie proprio da gruppo, venute dal gruppo, perché veramente abbiamo portato via da due campi difficilissimi, due vittorie importantissime, che le abbiamo portate via con le unghie, con i denti, proprio in maniera eccezionale. Queste vittorie sicuramente fanno rafforzare il gruppo ancora di più. Se già era unito prima, adesso lo è ancora di più. e speriamo che di domenica in domenica lo sia sempre di più.